Buongiorno Tu devi spedire con un bancale Sono un bancale e niente scatole Sono una scatoletta Quindi sono nove colli più un bancale Aspetta perché ho poco spazio Ti ho chiamato genitamente Sempre dopo Dopo pranzo Sì 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 Va bene? Ok manda il mio collega se ce la faccio io va bene? Va bene d'accordo Grazie mille Buongiorno 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 signor Sì Mi dice che è successo? È un piacere? Cos'è successo? Con la merce ritirata? Sì Ok Posso chiederle il nome? Si capisce Ok Ma non ce lo capisce Praticamente è passato un camioncino Chiedendo Ritirando della merce Si è scoperto che erano dei truffatori Quindi la merce ritirata È stata rubata Sono stati contantati dai carabinieri Che ci hanno comunicato questa cosa Il camioncino è già stato fermato La merce è già stata sequestrata Perfetto Ok la ringrazio Va bene Ok Grazie Grazie a tutti 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 Grazie.